grazie mille onsmark9 grazie mille per il prime benvenuto vabbè almeno fossi riuscito a fare entrare quel rising rush almeno forse avremmo fatto qualcosa avremmo sprovato fare qualcosa probabilmente fosse entrato ragazzi avremmo vinta sta partita facciamolo sto tentativo ma non mi garantisco proprio niente sei un volle questo è puro italiano bravo bravo no che ho fatto che ho fatto che ho fatto che ho fatto mi stappato mi stappato mi stappato forse è meglio così dio gris va bene Questo è bravo comunque Qua è bravino Entrata 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 Ah f***** Ah f***** oh 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 eh lo faccio ma forse no dammi una verde dammi una verde calmo 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 non shotti non shotti ah vabbè fermo questo è uno switch niente vabbè oh 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 Sì No ragazzi c'è un No ok Ho appena realizzato che è successo In serie mannaggia Vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai Fagli vedere le stille Insomma Mamma mia Vabbè dai 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 No così No così è brutto Mamma così è brutto però Dai così è brutto Ah ma di che cazzo No 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 era lag era lag ragazzi Era lag ragazzi Era lag Era lag Tutta la vita Noo Vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai